E' così potente che degli uomini sono morti per proteggerlo e altri ucciderebbero per rivelarlo. E' un messaggio che è rimasto nascosto per secoli davanti ai nostri occhi e se le più grandi opere d'arte ce l'assero un segreto che potrebbe cambiare definitivamente il corso della storia del genere umano. Non importa se lo avete letto. Non importa in cosa credete. Il viaggio è appena cominciato.